Sembra che sono online i server, andiamo, potrebbero essere online, ci stanno facendo entrare Like al video, iscrivetevi al canale e pronti carichi per questa nuova stagione Accesso in corso, la coda c'è però è poca, 2 minuti e 30 secondi è pochissimo Signori, codice supporto a un creatore RDT XT Cerca, fate il video, mi raccomando, taggatemi su Instagram, TikTok, dove vi pare per la videochiamats Compra ma sbattaglia Conferma acquisto Oh 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 Sbloccato E abbiamo già, bellissima Wempool La prima skin del pass battaglia Equipaggia immediatamente più 5 stelline E che fai? Hai già 5 stelline, non ti vai a riprendere i primi 100 V-Bucks Eccolo E purtroppo non abbiamo visto la prelobby Doom Stad Corte di Dom, castello di Dom E questo, il raft Andiamo, buttiamoci L'haga un pochettino Ci atterrerà pure mia nonna Ma non fa niente Allora, mitraglietta Ok, siamo atterrati Molto bene Abbiamo trovato la R Doppie mitragliette Ah Si provano subito queste Scar Vabbè, mi sta dando tutto Mi sta dando Mi sta dando già tutto Mi sta dando Aiuto, non so che armi usare adesso Lo scar è tornato Salve scar No vabbè, ma tranquillo Dammi un'altra cosa Dammi un'altra cosa Non ti provo Ecco qua Ah, fantastico Eh, amico mio Non rompe le palle Su Uso lo scar Uso lo scar Mamma mia Ecco qua Ah, fantastico Ma torna quant'è Ma se vede proprio la testa Si vede Porca trota Guarda la Galactus Guardalo, guardalo Guardalo Io c'ho paura di Galactus Mi ha sempre fatto paura Aspetta Vieni qua, amico mio Un momento Non hai armi Eh, mi dispiace Sei andata un po' di stiga Da qua, eh Cazzo Bello, bello, bello Mamma mia Mi sono cagato un po' sotto Il vampa, ragazzi Il vampa Che si usa Subito, subito Guarda Ok Ah, gli amortangoli E riii Via Sparisci Ha fatto malissimo Atterriamo Al raft Il raft In teoria Dovrebbe essere La prigione Quindi voglio atterrare Al raft Vai Allora, dove posso atterrare? Dove posso atterrare? Atterro precisamente Qua Oh, e basta Spararmi Porco Giuda E manco il tempo Di atterrare Eia E su E giù Oh, il nuovo pompa La nuova pistola Minchia, tutto qua Ho trovato Cassa speciale Si apre Mio Dio Mio Dio Oh my god Eh, aspetta Abbiamo un nuovo pompa Ragazzi Che dobbiamo provare Vediamo Sessanta No Quanti colpi c'ha? No, no Ti prego Eh, vabbè Dai Allora ditelo Allora ditelo Va bene Ditelo Posso provare a farlo fuori? Mamma mia Ma spamma pure Spamma pure Occhio eh Occhio Occhio ragazzi C'è anche questa nuova pistola qui Che dovrebbe essere una specie di revolver Vediamo Bellissimo Che mi respara così Bellissimo Guarda Bella Mi piace Dobbiamo vedere però se è forte Allora E andiamo a fare rotaie Ah Il vampa blu Sì Ma quanto spara veloce Ma quanto spara veloce Il vampa Ma è tipo fortissimo No vabbè Sto No Aspetta 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 Allora Per il momento Sembrano rotte tutte le due le armi Sia il vampa Che il pompa Sembrano Completamente Rotti Non voglio immaginare Questo pompa qui Mitico Che cosa fa Non voglio immaginare Ciao treno Bentornato Salve carissimo Attenzione Stiamo per entrare al castello ragazzi Ok dite che c'è Porca troia Porca troia Meno male che spamma Che culo Doppie pistole si prendono Vai Cos'è Propulsori Non so cosa sia Cos'è No è il jetpack No no basta Basta Giù 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 Puoi volare col jetpack C'è un tizio C'è un tizio sopra Vai vola Come faccio a volare col jetpack Ragazzi come faccio a scendere Oddio Aia no Non ci credo No me l'ho quasi fatto Micchia troppo forte le mitragliette Leggendarie Allora devo un attimo capire come funziona il jetpack Una volta che voglio non so come si fa togliere Che carino sto posto Guarda la statua No Vuole atterrare sotto la statua Atterriamo la sotto Doppie pistole Cassa incredibile Mamma mia Mamma mia la roba Mamma mia la roba Attenzione Pompata Va bene L'ho massacrato Non fa niente che se ne scappa Scudo Oddio che Ragazzi No Che fa sto scudo Mi ripara dei colpi E posso anche lanciarlo Che spettacolo Ok i colpi finiscono I colpi finiscono E non si Si ricaricano Con i colpi mitraglietta Perfetto Bampa non mi interessa Tanto già ce l'abbiamo Aspetta Vai Bomb Bomb No 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 Aspetta Oddio Non è normale sta cosa Oh porca miseria Ma quanto è forte lo scudo Buono Vai Hittato Ma lo insegue Ma non ho capito se lo insegue Tornami indietro grazie Bene Oh prima lo hittato eh Ma sembra che lo insegue però E' casino ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Eh no Eh no però Eh no Eh no Avevo appena ucciso il boss Siamo nel carcere Pompa Attenzione Kill per noi Pampa epico Si prende Massacrato Massacrato Provo ad andare Sali 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 Uh Bene Voglio questo Tutta la vita Buono 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 Se no ci muori Calmo Questo leggendario E' pieno E' di caricare Quest'arma Prover No 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 Bene o male L'abbiamo provata Ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto questo video Sembra molto carina Domenica Tra domenica e lunedì Uscirà il video dove dirò Cosa ne penso di questa season Voi mi raccomando Continuate a sciopare il pass Col codice RDTips Non ti Grazie mille a tutti Ci vediamo in live Tutti i giorni Alle 10 di mattina Mi raccomando Non mancate Ciao belli Ciao Ciao